recuperare un po' di energie nervose, energie mentali e al tempo stesso provare a lavorare, provare a fare qualcosa che ci possa permettere. Mi auguro domani sera di fare una buona gara. Che Lazio ti aspetti? Ha una formazione che forse ha un po' sorpreso in questo inizio di stagione. Doveva esserci un altro allenatore, è stato richiamato Simone Inzaghi, che a parere mio ha fatto anche bene con questa squadra. No, a parere di tutti, perché credo che la Lazio assieme all'Atalanta siano le sorprese del campionato, sicuramente più l'Atalanta, ma anche la Lazio ha disputato un campionato sopra le righe, arrivando anche in finale di Coppa Italia, giocando sulla con la Juve, ha fatto un enorme lavoro, un gran lavoro sicuramente in zaghi, ed è una squadra in questo momento che comunque ha entusiasmo, fiducia, sicurezza, non ha nulla da perdere perché il loro campionato l'hanno già fatto, mentre noi dobbiamo cercare di finire in modo diverso rispetto a quello che stiamo facendo ultimamente. Ti anticipo io, ho una domanda che immagino ti faranno sicuramente in conferenza stampa. Ci aspettiamo magari un Inter che può cambiare anche dal punto di vista tattico, visto alcune situazioni un po' in forze. Sì, abbiamo provato alcune situazioni nuove, questa settimana abbiamo avuto il tempo di provare qualche variante, qualche variabile, speriamo che possano essere adatte ad affrontare la Lazio domani, io credo di sì, proprio perché la Lazio è in grado di cambiare modo di giocare, anche a partite in corso, variando giocatori e variando uomini, per cui dobbiamo cercare di essere pronti ad ogni evenienza e cercare di contrapporci nel modo migliore. Buona conferenza allora, mister. Grazie, a più tardi. Grazie. Allora, Letti, tra pochissimo ovviamente lasceremo la linea alla sala stampa del Sonia in Training Center. Per sentire le considerazioni del mister, ho cercato di anticipare un po', secondo me, è uno dei temi, perché c'è qualche dubbio, l'abbiamo visto anche dagli essessi quotidiani, soprattutto anche nel ritorno di Gary Medel, se ancora utilizzato in difesa o a centrocampo. Le soluzioni il mister le ha, le ha provate, quindi vedremo poi domani come andrà. Sì, c'è varietà di protagonisti e moduli su tutti i giornali per entrambe le formazioni, tra l'altro per la Lazio abbiamo visto già ovviamente tre moduli, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-2-1, secondo tutto sport cambia anche un po' l'Inter di Stefano Vecchi, ma Stefano Vecchi è già in conferenza stampa, quindi lasciamo a lui la parola, ci troviamo al termine della conferenza. Volevo chiedere se è cambiato qualcosa di questa settimana, se ha visto più intensità, più voglia o è comunque quasi finita la stagione, c'è solo voglia di lasciarsi tutto alle spalle e andare in vacanza. No, spero di no, il segnale che comunque la squadra ha dato durante la settimana e di una squadra che comunque non vuole finire in questo modo ed è stata sicuramente una settimana migliore rispetto a quella precedente, vuoi anche perché si sono magari abituati anche ai nostri modi di lavorare e di intendere l'allenamento e la settimana. E poi volevo chiedere su Gabigol, visto che è ormai l'idolo della folla, urlavi anche tu domenica, a bordo campo ho staccato il microfono, cosa gli manca per giocare da titolare al campeonato italiano? Ha bisogno di giocare, è quello il problema, è la stessa cosa che ho detto domenica in conferenza stampa o da voi, comunque è un ragazzo che secondo me avrebbe bisogno di giocare e qua ha fatto fatica perché comunque davanti a lui ci sono giocatori importanti. Ricordo sempre l'esempio lampante che Eder spesso e volentieri in questa scuola è stato fuori ed è un giocatore titolare della Nazionale Italiana, per cui non è facile, non è semplice trovare spazio. Poi chiaramente un po' lui ci ha messo anche del suo, ma è un ragazzo per cui anche il fatto di demotivarsi o di essere demoralizzato sicuramente probabilmente si aspettava di giocare e di vivere una stagione diversa ed è normale, è un normale percorso di un ragazzo giovane che comunque ha qualità. Ciao, buongiorno. Ti volevo chiedere, visto che settimana scorsa hai sottolineato forse i metodi un po' blandi di allenarsi da parte della squadra per una serie di motivi, che cosa è cambiato in questi giorni per poter riattaccare la spina e affrontare queste due partite in maniera diversa? Lo sforzo che stiamo facendo è quello di tenere la squadra, ma non tanto da un punto di vista fisico, perché questa squadra comunque da un punto di vista fisico ha sempre fatto quello che gli chiedevi e fa quello che gli chiedi. Il problema è che la differenza, l'ho già detto l'altra volta, la fa provare a superarsi, a superare i propri limiti, ad andare oltre nel momento della fatica e in questo momento questa squadra fa fatica a far questo. Da un punto di vista mentale lo sforzo non lo accetta ha bisogno di essere incitata, ha bisogno di essere spinta con le parole, a voce, sempre in ogni situazione, a richiamare l'attenzione in ogni situazione ed è una cosa che fa fatica a ritrovare l'aspetto mentale. L'aspetto fisico è una squadra che lavora, è una squadra che sta bene, contro il Sassuolo la squadra ha corso di più, se andate a vedere le statistiche, al di là del gioco espresso comunque di occasioni da gonne ha fatte, ha spinto fino al novantesimo, quindi sotto questo aspetto la squadra sta bene, è solamente che quando c'è da fare la corsa in più, lo sforzo in più, andare oltre, è questa una squadra che in questo momento qua ha fatto fatica, mi auguro che in questa settimana qualche segnale c'è stato, mi auguro che domani si riesca a mettere in campo. Perdonami, sembra più l'identikit di una squadra di allievi che di giocatori di primissima faccia, com'è possibile che dei professionalisti che giocano nell'Inter... No, succede spesso che l'aspetto mentale vada ad incidere così, ed è una cosa un po' chiaramente involontaria, è una cosa che si crea nel tempo e che crea problemi nel tempo, perché, ripeto, i ragazzi sono ragazzi che ci tengono, sono ragazzi che in questo momento da un punto di vista mentale stanno facendo fatica a venire fuori da questa situazione qua e non succede solamente con i ragazzini, ma è pieno di squadre che fanno il Leicester per dire, ha vinto il campionato l'anno scorso e a un certo punto si trova in zona retrocessione, perché? Sono gli stessi giocatori. E quindi questo non credo che sia stato un calo di tensione, però è stata una stagione storta e questa è una stagione storta che dobbiamo cercare di finire bene. L'altra cosa è legata indirettamente a questo discorso che hai fatto. Questi giocatori, questo spogliatoio, ha bisogno, storicamente l'Inter ha sempre avuto bisogno di un allenatore forte di temperamento e di carisma per vincere, per imporsi, ha bisogno anche in questa fase di un allenatore alla Murigno, giusto per non citare Conte, per esaltarsi. L'Inter in sé, per la squadra, per la società, per il Blasone, ha bisogno e merita il migliore allenatore del mondo, questo è di sicuro. È sicuro, adesso tocca a me, con i miei limiti e le mie difficoltà, cercare di motivare questo gruppo e cercare di portarlo a termine nel modo migliore possibile ed è quello che stiamo cercando di fare. Sappiamo che abbiamo questi pochi giorni a disposizione, cerchiamo di mettere tutte le energie, tutte le forze, proprio per cercare di dare un ordine, una disciplina, come dicevi tu, e stiamo cercando di farlo anche noi. I ragazzi, sotto questo aspetto, ripeto, non stanno dando nessun tipo di problema. Passo, una cosa velocissima, legato, se Gigi mi per me, no. Se, visto il rendimento insufficiente di tante primissime scelte, non avresti la tentazione di puntare su Pinamonti, che conosci bene, attraverso un momento felice dal punto di vista personale, appena rinnovato, per provare a rompere col passato e a puntare sul futuro, su quello che dovrebbe essere il futuro dell'Indo. Sì, è una soluzione, però l'altro giorno Eder, quando è entrato, ha dato una svolta, ha dato un segnale di un ragazzo che non ha mollato, di un ragazzo che è entrato con lo spirito giusto, Gabigol ha dato qualche buon segnale, Pinamonti lo conosco benissimo, so che è un ragazzo che avrà un futuro importante. all'interno di una stagione, di una squadra senza problemi, probabilmente domani avrebbe giocato. In questo momento sono restio, perché dall'inizio almeno, partita in corso potrebbe anche entrare, perché in una squadra con queste difficoltà non vorrei che lui si sentisse troppo sotto pressione. Corriere dello sport? Stefano, volevo chiederti, prima di tutto, se mi immagino che tu abbia visto la partita, la finale di Coppa Italia, cosa pensi della Lazio come avversario, soprattutto che Lazio pensi di trovarsi di fronte dopo la sconfitta in Coppa Italia? Sì, è chiaro, la partita l'ho vista e appunto per quella partita non sappiamo nemmeno cosa ci possiamo aspettare, nel senso che con la Fiorentina in campionato aveva giocato praticamente una Lazio 2 e ha dimostrato di avere giocatori alternativi valide, ma è il segnale di una squadra che sta facendo un campionato importante, complimenti a mio amico Inzaghi che ha fatto una stagione di spessore, oltre sicuramente le aspettative, e in questo momento ha dimostrato che ci sono giocatori importanti dentro quella squadra, ma non solo in quelli che giocano titolari, che hanno giocato la partita contro la Juve, ma anche altri che sono fuori, per cui è una squadra anche che cambia modo di stare in campo, per cui anche noi abbiamo cercato di studiare alcune soluzioni che possono servirci domani nell'affrontare una Lazio che non sappiamo in questo momento come potrà giocare. La seconda è questa. Quando ci siamo trovati qui la scorsa settimana c'era un obiettivo Europa League ancora raggiungibile, premesso che anche adesso lo è, almeno dal punto di vista della matematica, però realisticamente sembra molto molto più complicato. La scorsa settimana avevi puntato, almeno ci hai detto così, per motivare la squadra su dover lottare per questo obiettivo finché era possibile. Questa settimana per dare ai tuoi una motivazione, anche in vista di una partita contro un avversario che la Lazio è obiettivamente più forte rispetto al Sassuolo, c'è il rischio di fare una figuraccia. Su cosa hai puntato? Su cosa hai detto alla squadra? Su questo, quello che hai detto tu. È sicuramente una squadra dal punto di vista singolo e in questo momento anche dal punto di vista tattico superiore al Sassuolo. Dobbiamo cercare di mettere in campo qualcosa in più. E ripeto, non possiamo finire la stagione in questo modo. Ho cercato di motivare i ragazzi sull'aspetto, diciamo così, anche personale, sulla sfida che dobbiamo affrontare, su alcuni giocatori che giocano in nazionale con loro e che hanno disputato un campionato superiore ad alcuni nostri giocatori, cercando di motivarli proprio sull'orgoglio e sulla voglia di rivincita o di dimostrare comunque in queste ultime due gare di non essere la squadra da settimo-ottavo posto. Buongiorno Stefano. Volevo chiederti questo. La settimana scorsa tu avevi detto non cambio la formazione nel modulo o nella formazione di base perché è giusto dare un'ultima chance. Voglio anche vedere una reazione da parte dei giocatori. Volevo sapere se ti ha deluso qualcuno e se hai intenzione di cambiare assetto di gioco e che cosa hai visto in quella partita col Sassuolo a livello caratteriale da parte della squadra. Parto dall'ultima cosa che mi hai chiesto contro il Sassuolo dal punto di vista caratteriale. Ho visto una squadra che ha spinto, che ha dato, che ha fatto e che ci ha provato fino alla fine, che è partita bene cercando di fare la partita. Abbiamo sbagliato dei gol, abbiamo colpito un palo e abbiamo fatto un errore purtroppo grave che ci è costato l'1-0. Abbiamo sbagliato i gol per pareggiarla. La squadra comunque dopo le bastonate ha reagito immediatamente. Poi non era un ambiente facile, non era un ambiente semplice. Abbiamo fatto, secondo me, da questo punto di vista una discreta partita. Purtroppo il risultato non ha seguito quello che anche i dati statistici così dicono sulla gara. un predominio comunque nostro che non è stato, diciamo così, assecondato dal risultato. È chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più. È normale. Siamo l'Inter e il problema è che non per questo in questo momento possiamo essere una squadra che può pensare di giocare e perché si chiama Inter e gioca comunque è una partita semplice. Adesso in questo momento qua le partite sono difficili tutte. Ha maggior ragione contro squadre come la Lazio che non ha niente da perdere e che hanno valori importanti. Ripeto quello che ho detto prima, abbiamo provato delle varianti, delle situazioni, alcune cose anche diverse. Vediamo un po' come giocherà la Lazio e di conseguenza in questo momento non abbiamo la sicurezza, la certezza di una squadra che sa cosa fare al 100% per tanti motivi per cui purtroppo dobbiamo anche cercare di adeguarci un po' al loro modo di giocare. Volevo chiederti scusa, un'ultima cosa sempre su Gabigol, un po' più diretta, ma lo fai giocare domani o no? Dall'inizio no, però partita in corso può essere. In una settimana in cui ci sono state tante dichiarazioni anche di molti ex giocatori dell'Inter che hanno avuto parole piuttosto dure per la squadra, volevo chiederti qual è la percezione rispetto alla proprietà, se sta facendo comunque sentire la sua vicinanza a voi che state lavorando in questo momento molto difficile. E se hai parlato con qualcuno in particolare? Sì, con Steven Zhang, con i direttori, con Gardini, con Ausilio, ci sono vicini con Zanetti e sono qua, sanno benissimo qual è la situazione, la situazione sono consapevoli della situazione difficile e complicata che si è venuta a creare e ci sono vicini perché comunque sanno che non siamo in una situazione facile per cui siccome so che siamo stimati io e il mio staff a maggior ragione si sentono responsabili anche un po' loro della nostra posizione diciamo così per cui li sentiamo vicini è chiaro che da parte nostra vorremmo regalargli qualcosa di positivo e sarebbe una bella cosa. Altre domande? L'ultima se c'è il no il microfono ce l'ha guardato se non si senta la domanda è ragione. Mister Salve senta quando abbiamo sentito di Francesco in conferenza stampa ci ha detto che al di là di quelle che possono essere le motivazioni dell'obiettivo proprio che una squadra può avere però la motivazione per un giocatore deve essere quella di giocare in serie A e nello specifico visto che comunque qui si tratta di una grande squadra di giocare nell'Inter lei sente di avere in questo gruppo dei giocatori che hanno questo tipo di motivazione? Il Sassuolo è da un po' che obiettivi non ne ha l'Inter si è trovata in questo momento a perdere gli obiettivi per cui ci vuole anche un po' di tempo per metabolizzare questa situazione e l'Inter non ha avuto tempo di metabolizzare questa situazione perché nel momento in cui ha perso la Champions è crollato il mondo addosso ed è un po' anche quello che alla fine anche il Sassuolo ha vissuto quest'anno nel momento in cui ha perso qualche obiettivo ha fatto fatica poi adesso ultimamente il Sassuolo sta giocando e dei cinque anni che giocano assieme hanno la possibilità di appoggiarsi nei momenti di difficoltà su un'organizzazione di gioco che qua purtroppo non c'è o comunque c'è in modo parziale perché ogni cambio di allenatore ha portato idee diverse ogni cambio di allenatore ha portato scelte diverse per cui non c'è una continuità tecnica il Sassuolo è molto più facile perché c'è un'identità c'è una continuità tecnica c'è un modo di lavorare che è sempre quello ci sono giocatori che sono abituati a giocare per far l'impresa qua all'Inter adesso in questo momento qua è un'impresa cercare di venirne fuori con onore con motivazioni con una voglia diversa qui c'è gente che è abituata a vincere a giocare ad alti livelli trovarsi in questa situazione per loro non è semplice grazie buongiorno a tutti buoni guardi grazie ciao 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 questa è la conferenza stampa di Stefano Vecchi che ha presentato la gara contro la Lazio una squadra sicuramente forte tecnicamente ma notata anche di buoni giocatori una squadra che ha saputo stupire in questa stagione e dall'altra parte si è parlato anche della preparazione della squadra di Stefano Vecchi che ha puntato appunto sulla squadra ma anche ha voluto dare delle motivazioni personali ai giocatori per far bene in questo appuntamento sicuramente importante poi si è parlato anche di diverse variabili che potremmo vedere nel match di domani io ringrazio Negaia Beccalossi che ci ha accompagnato nella prima parte di questo live e vi saluto dandovi però appuntamento nel pomeriggio perché ci ritroveremo con l'informazione flash a partire dalle 17 quindi l'informazione serale alle 19.30 con Inter News l'appuntamento da non perdere nella giornata di vigilia come sempre è countdown con tutti i temi della sfida tra Lazio ed Inter a partire dalle ore 21 grazie per essere rimasti in nostra compagnia più tardi a partire